Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Wootering Waves perché oggi facciamo un altro discorso per quanto riguarda gli eco. Gli avevo promesso che ne avrei parlato in un video a parte e penso che sia la cosa migliore proprio per non confondere le acque rispetto a quello che un giocatore può assimilare mentre sta giocando. Ovviamente tutte le informazioni che si acquisiscono quando si entra in un mondo nuovo devono essere centellinate perché altrimenti si rischia la confusione. Quando poi un giocatore rischia la confusione si può in un qualche modo cadere o comunque si può percorrere la strada dell'abbandono e questa è una cosa che succede molto spesso al giorno d'oggi proprio perché le funzionalità del gioco sono diverse o comunque sono molto particolari, non le si capiscono al volo, non si riesce a stare al passo col gioco e quindi si quitta. Qui abbiamo un piccolo vantaggio dettato dal fatto che Wootering Waves abbia in un qualche modo copiato alcune basi, alcune tematiche da un diretto concorrente e quindi di conseguenza riesce ad essere un po' più interpretabile e un po' più semplice e più comprensibile dalla maggior parte dei personaggi. Ma per coloro che non hanno mai giocato effettivamente quegli altri giochi potrebbero spiazzarsi e potrebbero per l'appunto quittare. Ma non vi preoccupate perché oggi parliamo degli Echo e di tutto ciò che bisogna sapere degli Echo. Cominciamo subito a dire che gli Echo sono una delle parti più importanti presenti all'interno del gioco. Ovviamente unite alla vostra skill perché questo è un gioco molto skill based e poi ovviamente unito anche alla vostra team composition, ai vostri personaggi che utilizzate e tanti fattori che ovviamente non stiamo qui a sottolineare. Per quanto riguarda gli Echo la cosa principale da andare a evidenziare e sottolineare è il Data Bank. Che cos'è il Data Bank? Il Data Bank è come dice la parola stessa il vostro centro di raccolta informazioni. Infatti quando comincerete la vostra avventura e avrete la possibilità di poter collezionare gli Echo, perché qui gli Echo per l'appunto si collezionano, avrete la possibilità di ottenere le creature che eliminerete all'interno della mappa di gioco o comunque all'interno del roaming che potrete effettuare sul vostro mondo, sulla vostra mappa. Infatti avrete a disposizione una sorta di database di tutte quante le creature possibili e immaginabili all'interno del gioco che successivamente andando avanti con la vostra esperienza miglioreranno di qualità. Che cosa vuol dire miglioreranno di qualità? Ovvero riusciranno ad incrementare il proprio livello, permettervi di ottenere delle statistiche in più e soprattutto vi permetteranno di ottenere delle sottostatistiche o delle substats, come vengono chiamate, più produttive o comunque più redditizie rispetto alla qualità precedente. Esistono quattro tipi di qualità. Quella iniziale, che è praticamente la qualità bianca o per meglio dire normale, comune. Successivamente abbiamo la qualità azzurra, che sarebbe la qualità non comune. Successivamente abbiamo la qualità viola, violacea, che rappresenterebbe la qualità epica. E poi infine abbiamo la qualità oro, come quella che vedete qui praticamente con tutte le stelle riempite, che sarebbe la qualità leggendaria. Ogni qualità ovviamente viene migliorata grazie al vostro impegno e al vostro successo del raccoglimento informazioni e appunto cattura delle creature. Sì, proprio letteralmente cattura delle creature all'interno del gioco, un po' come Pokémon, un po' come Palworld, vi consentirà di avere più esperienza e incrementare di livello il vostro databank. Perché è importante innanzitutto incrementare il livello del vostro databank? Semplicemente perché aumentando il livello del databank avrete un base drop rate dei vostri eco aumentato, una base per quanto riguarda il drop rate di creature potenziate, come i target class che ora andremo a vedere nello specifico, gli overlord e le calamity, e poi praticamente le vostre possibilità di ottenere delle creature potenziate, che vi permette appunto di ottenere un vantaggio all'interno del vostro gioco. E poi avrete anche l'highest drop rarity che in questo caso vedete due stelle ovvero comune, che io prima avevo detto bianco ma in realtà è verde, quindi il colore verde che sta ad indicare per l'appunto la classe comune che potrete equipaggiare. Il cost limit invece è la possibilità di poter equipaggiare degli eco entro un determinato range. Infatti inizialmente quando voi giocherete avrete la possibilità di potervi buildare in un modo, man mano che andrete avanti nel gioco guadagnerete altri due punti nel cost limit, quindi per arrivare a un massimo di 12 e di conseguenza potenziarvi ancora di più. Man mano che incrementerete il vostro databank potete notare anche delle differenze, infatti come potete vedere man mano che andrete avanti avrete più probabilità di poter droppare una qualità migliore dei vostri artefatti o comunque una qualità migliore delle vostre creature. Quindi è molto importante cercare di aumentare il databank il più velocemente possibile. Come si fa ad aumentare il databank? Semplicemente catturando le creature. Catturate le creature, unitele tramite la fusione che vedremo tra poco come funziona e successivamente ottenendo delle qualità più alte o comunque delle rarità più alte otterrete databank experience. Ottenendo la databank experience passerete di livello e una volta passati di livello come potete vedere arrivati più o meno verso il livello 15 che diciamo il mid cap fondamentalmente dove molti si bloccano quindi dal 13 fondamentalmente al 15 è la zona dove la maggior parte dei giocatori si blocca, incominciate a fare fusioni, incominciate a diciamo cercate di fare fusioni, incominciate a cercare ovviamente delle creature anche al di fuori delle vostre mappe tramite le coop perché ce ne saranno diverse che sono molto importanti che saranno i boss elite in giro per la mappa ovvero dei nemici con delle fiamme e con del fuoco che vedrete praticamente addosso e che vi consentiranno di ottenere un drop speciale e quindi di conseguenza ottenere tanti punti databank da aggiungere alla vostra collezione. Una volta superato il livello 15 però è tutta una discesa perché praticamente arriverete tranquillamente al 18 o come me direttamente al 20 che ancora non posso appunto non posso arrivarci perché mi manca da fare il livello 40 come livello unione però tutto il resto è una grandissima discesa. Come stavo dicendo prima abbiamo diverse creature all'interno del gioco queste creature potranno essere catturate e utilizzate come eco quindi come equipaggiamento e come artefatti. Qui invece abbiamo la sezione dei set quindi ogni creatura che potremo catturare o che potremo in qualche modo combattere all'interno del gioco fa parte di un set. Il set viene capeggiato solitamente da un mostro calamity o comunque da un mostro più forte rispetto agli altri come in questo caso può essere il thundering mephys nel set elettrico che per l'appunto viene identificato come overlord class quindi sarà il grado più alto che noi potremo ottenere come ranking dei nostri pezzi di eco e che fondamentalmente viene rappresentato da un boss quindi un boss che avrete la possibilità di affrontare sulla mappa e che potrete in un qualche modo combattere mentre invece per quanto riguarda un altro esempio il set evoke evoke con l'h davanti abbiamo anche le calamity class le calamity class sono molto simili agli overlord perché anche le calamity sono dei boss solo che le calamity class sono i boss settimanali in teoria quindi poter ottenere diciamo delle passive o comunque poter ottenere l'eco di un boss settimanale capite già che non dico essere più difficile perché i boss possono essere affrontati a ripetizione quindi non sono vincolati all'ottenimento delle risorse potete tranquillamente non ottenere risorse e farmare soltanto gli eco però capite che già la difficoltà della battaglia e la difficoltà in generale dello scontro sarà diversa sarà un po più alta quindi in base al vostro set dovrete sempre e comunque iniziare o comunque capeggiare e almeno è un consiglio che vi do io capeggiare il vostro set con un overlord o con una calamity gli overlord e le calamity costano ben 4 quindi se vi ricordate prima che vi parlavo di costo per quanto riguarda il databank ora capite perché è importante aumentare il costo del vostro equipaggiamento massimo successivamente abbiamo gli elite gli elite class che sono praticamente delle delle classi al di sotto degli overlord dato che queste classi costeranno tre punti per il vostro per il vostro per la vostra build fondamentalmente e possono essere trovati anch'essi all'interno della mappa di gioco oppure tramite i dungeon specifici che vi consentiranno di droppare comunque sia creature comuni che creature elite di un determinato elemento quindi vedremo anche dopo dove poter farmare determinate creature qualora voi ne abbiate bisogno e poi infine abbiamo le creature comuni quindi le common class che hanno costo di uno e che quindi saranno molto facili da farmare saranno molto facili da inserire all'interno dei vostri kit e che vi consentiranno di ottenere comunque delle statistiche decenti qualora i vostri role andassero per il meglio che cosa sono i role lo vediamo tra pochissimo ultima funzione importante del databank è il la possibilità di unire quindi il data merge quindi l'unione dei vostri dati ed è esattamente come funzionerebbe un pokédex o comunque come funzionerebbe fondamentalmente un centro di ricerca selezionando tutti gli eco che a noi per esempio non ci interessano possiamo unirli per poterne ottenere uno nuovo o se siamo fortunati poterne ottenere anche di più fino a tre una volta ottenuto il nostro nuovo eco possiamo andare a controllare le sue statistiche possiamo andare a controllare un pochettino quello che ci interessa e poi ritornare indietro e ricominciare da capo quindi abbiamo la possibilità di come potete notare qui possible results a tenere una diciamo una una classe di eco che che sarà comunque garantita e poi avremo la possibilità di ottenere praticamente le altre diciamo altri risultati in scaletta fino addirittura ripeto a tre eco contemporaneamente quindi ne unite cinque ne recuperate tre e già avete un bellissimo recupero anche per poter continuare a fondere e poter o continuare ad ottenere esperienza perché vi ricordo che unire le creature vi fornisce comunque un minimo di esperienza di data bank successivamente successivamente andiamo a parlare di quelli che sono effettivamente gli eco infatti come potete vedere noi abbiamo la nostra build abbiamo già equipaggiato un set di eco che prende il nome di sonata quindi quando voi parlerete di sonata state parlando comunque di un set completo il set completo viene solitamente capeggiato da un eco di costo 4 solitamente o almeno preferibile utilizzare un eco di costo 4 che vi consentirà anche di trasformarvi e quindi vi consentirà di effettuare una trasformazione all'interno del gioco come potete leggere appunto dalla dalla eco skill che sarà quella che si ottiene solo dal primo eco equipaggiato infatti come potete vedere abbiamo un eco equipaggiato qui un trattino e poi gli altri quattro distribuiti in questa maniera proprio perché il primo eco che noi andremo ad equipaggiare ci consentirà di ottenere la sua eco skill in questo caso abbiamo la possibilità di trasformarci nel thundering mephys effettuare danno elettrico e incrementare il danno elettrico del nostro personaggio e la sua resonance liberation quindi il danno della sua resonance liberation che come vi ho spiegato già l'altra volta è la sua ulti quindi mi permette di aumentare il danno elettrico e il danno dalla ulti quindi veramente veramente ottimo infatti in una build nel video build che io ho mostrato di calciaro ho consigliato comunque come overlord in generale come come eco 4 diciamo di costo 4 il thundering mephys successivamente se entriamo nel dettaglio del nostro ovviamente del nostro personaggio e della nostra build possiamo notare che ogni nostro artefatto o ogni nostro eco possiede due statistiche principali e poi ovviamente in base alla qualità del nostro artefatto in questo caso ottenere fino a 5 passive quindi fino a 5 fino a 5 substats come vengono chiamate generalmente queste substats ovviamente dobbiamo incrociare le dita e pregare gli dei affinché siano buone per la tipologia del nostro personaggio ovviamente le substats possono cambiare in base al personaggio che stiamo equipaggiando però fondamentalmente le substats che si andranno a cercare per i dps o i sub dps sono sempre le stesse ovvero l'attacco, il crit rate, il crit damage, l'energy regen, la resonance liberation damage eccetera eccetera quindi abbiamo comunque già delle substats predefinite che andiamo a cercare però dipende che cosa ci esce potremmo decidere di tenere o meno il nostro artefatto o comunque il nostro eco successivamente abbiamo gli elite che come vi dicevo prima hanno costo 3 e che quindi ci consentono di ottenere però altre statistiche infatti in questo caso gli elite è sempre consigliabile ottenerli dell'elemento affine al vostro personaggio quindi in questo caso electro damage bonus che mi consente appunto di effettuare più danni di tipo elettrici essendo il mio personaggio di tipo elettrico e poi di fare attenzione ovviamente alla natura perché la natura indicata qui con in questo caso il void thunder mi consente di utilizzare questo eco per la sonata la sonata che fondamentalmente non è altro che il set completo viene suddiviso in set da 2 e set da 5 ecco perché è consigliabile comunque equipaggiare un full set magari completo di tutte creature che vi consentono di raggiungere il costo 12 quindi 1 4 2 3 e poi 1 1 per raggiungere appunto il costo di 12 proprio per ottenere diciamo tutti gli effetti che vi aiuteranno nella concezione di build del vostro personaggio infatti in questo caso ho un eco di costo 3 elite che mi da electro damage bonus attacco le substats che ovunque ho sbloccato che sono molto buone in realtà e poi successivamente passare al prossimo elite prossimo elite che anche in questo caso mi da electro damage bonus qui ovviamente potrete ottenere come stats di base qualsiasi cosa a partire dall'attacco percentuale alla difesa agli hp all'ealing bonus al crit rate crit damage quindi in base a quello che vi servirà nello specifico dovrete farmare ok questa è una cosa molto molto importante successivamente abbiamo 5 substats sempre in questo caso perché appunto è di qualità oro quindi di qualità gialla la massima leggendaria e quindi abbiamo 5 substats se invece vi faccio vedere come potete vedere quello viola quindi di qualità epica ne abbiamo soltanto 4 quindi capite benissimo che cercare di incrementare il vostro livello di data bank e incrementare la possibilità di catturare creature migliori è ovviamente un investimento molto molto importante e poi abbiamo infine le ultime diciamo gli ultimi eco da 2 che possono essere equipaggiati in modo tranquillo proprio per ottenere le varie statistiche che ci servono cosa molto importante è che tutte quante tutti quanti i nostri eco ci consentono di ottenere la eco skill in realtà però ovviamente devono essere equipaggiati in cima quindi se non sono equipaggiati in cima non avremo la possibilità di ottenere la eco skill mentre invece vi ricordo che soltanto la prima equipaggiata ci consente di sbloccare la sua eco skill fondamentalmente le cose da apprendere per quanto riguarda gli eco direi che sono finite ma c'è ovviamente un'altra cosa che dobbiamo sottolineare ovvero il potenziamento e il tuning delle vostre eco dei vostri eco che cosa vuol dire potenziamento e tuning? vuol dire che quando noi avremo la possibilità di upgradeare in basso a destra il nostro eco in questione avremo la possibilità di incrementare tramite oggetti che otterremo all'interno del gioco oppure utilizzare degli eco che sono già stati a loro volta potenziati questa è una cosa molto importante perché io per capirla ci sono stato un pochettino ma all'interno di questo gioco non si possono utilizzare come merce o comunque non si possono utilizzare come oggetti per potenziare altri eco gli eco che voi catturate in modo selvatico quindi tutti gli eco che voi avete di livello 0 non potranno essere utilizzati come materiale per la fusione ma potranno essere utilizzati soltanto anzi potranno essere utilizzati soltanto come materiale per la fusione e non per materiali come potenziamento quindi che cosa vuol dire questo che tutti i vostri eco di livello 0 potranno essere utilizzati all'interno del databank e all'interno della fusione come potete vedere tutti quelli di livello 0 invece quelli potenziati non potranno essere fusi quindi non potranno essere uniti mentre invece tutti gli eco che sono già stati potenziati in precedenza potranno essere utilizzati come materiale per power up infatti se noi andiamo qui e clicchiamo vedete tutti gli eco che io già possiedo con il più 20 che in questo caso è il potenziamento massimo volendo possono essere riutilizzati come investimento per il power up di un'altra eco nel momento in cui voi utilizzerete una vostra eco già potenziata riotterrete i materiali che avete utilizzato per potenziarla quindi diciamo che da un lato si piange con un occhio solo però fate molta attenzione perché il portare sugli eco senza avere la possibilità di avere oggetti o comunque di avere ciò che vi serve per portarli in alto potrebbe essere abbastanza tedioso una volta che voi avrete portato il vostro eco a livello 5, 10, 15, 20 o 25 sbloccherete il tuning che cos'è il tuning? il tuning è la capacità come potete vedere qui che ovviamente per il momento è bloccata la capacità di poter aggiungere una substats le substats soprattutto delle creature ora non so se ve lo posso far vedere magari perché se io vado qua e vado in upgrade non mi consente di fare altro perché qui ovviamente tutti i tuning sono stati completati ma nel momento in cui raggiungerete appunto i livelli suggeriti da ogni spazio avrete la possibilità di aggiungere una substats una substats che viene aggiunta tramite questi oggetti che adesso vi faccio vedere tramite questi oggetti che sono praticamente i premium tuner per ovviamente le classi di livello 5 infatti come potete vedere ma ne esistono anche per le classi di livello 4 e successivamente anche per le classi di livello 3 eccetera eccetera quindi ogni classe di echo può essere potenziata con le substats che può sbloccare vi ricordo che le substats da poter sbloccare aumentano in base alla qualità dei vostri echo quindi ottenere degli echo più alti in termini di qualità è solo io un vantaggio una volta parlato comunque di potenziamento e tuning non credo che ci sia altro da dire se non il fatto che bisognerebbe in un modo o nell'altro cercare di completare il set o se non riuscite a completare il set inizialmente focalizzarvi sulle statistiche che vi interessano di più quindi magari fare anche una build mista senza utilizzare appunto tutte le sinergie elementali possibili ma sfruttare il più possibile le statistiche che vi vengono fornite ovviamente cambierà molto anche in base al vostro personaggio se è un personaggio offensivo aumenterete il danno l'attacco l'elemento con cui effettuerete danno se invece è un personaggio di supporto aumenterete magari l'energy regen aumenterete magari la difesa aumenterete gli hp e tutto quello che ovviamente vi interesserà ma questa sarà una cosa che dovrete fare esclusivamente voi detto ciò non credo che ci sia altro che io mi stia dimenticando fondamentalmente per quanto riguarda per quanto riguarda l'eco quindi se ci sono domande se ci sono dubbi vi invito sempre a scrivermi sotto nei commenti spero che questo video possa esservi stato utile e possa essere stato interessante io vi ricordo che solitamente ogni sera sono alle 21 in live su twitch quindi se volete venirmi a trovare potete benissimo farlo vi invito anche magari a lasciare un commentino e un pollicino in su che non costano niente e noi come sempre ci becchiamo alla prossima bye bye ciao a tutti